In Egitto è stata confermata dalla presidenza l'ipotesi del governo di sciogliere il movimento dei fratelli musulmani, una proposta che era stata annunciata poco ore fa dal portavoce del premier, Azem El Beblaoui. Se l'ipotesi diventasse esecutiva, sarebbe un nuovo passo per il paese verso un'escalation definitiva. Non c'è riconciliazione possibile con chi ha le mani sporche di sangue, nessuna riconciliazione con chi ha alzato le armi contro il paese e il suo popolo. Non c'è riconciliazione con coloro che hanno violato la legge, ha detto il premier ai giornalisti. Il nostro governo ha la responsabilità politica di riportare il paese sulla retta via, verso una democrazia civile in cui tutti partecipano. Una presa di posizioni di chiusura quindi dal governo nei confronti del movimento dei fratelli musulmani, che con il partito Libertà e Giustizia ricopre la maggioranza relativa nel Parlamento.